Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per la vela sono iniziati ieri a Termoli i campionati nazionali giovanili in doppio. Oltre 400 gli atleti presenti che si contentano i titoli tricolori nelle classi in doppio. Il maltempo ha rallentato ma non fermato la macchina organizzativa. Tre i campi di legate interessati dalla competizione tricolore. Oggi naturalmente tempo permettendo in acqua anche i 5-5-5 del FIV per disputare il loro campionato nazionale di classe. Per il campionato di Serie D il Campobasso prepara il debutto interno con il Romagna Centro. La squadra di Cesena che domenica scorsa ha ospitato l'Olimpia agnonese conquistando un punto. Una leggera pioggia ha disturbato il classico allenamento del giovedì svolto dal Campobasso a Ripalimosani e consistito in un amichevole contro la Bois-Yelsi di Domenico Martinelli. Nella prima frazione Novelli ha fatto giocare le presunte riserve, tra queste anche i giocatori in attesa di transfert, i quattro non comunitari che potrebbero rientrare tra i disponibili dalla prossima settimana. In questo senso la burocrazia sta frenando e non poco l'arrivo del lascia passare, ma sembra che comunque si tratti ancora di qualche giorno di attesa. Nella seconda parte dell'amichevole si è visto all'opera anche il neoarrivato Fabio Meduri, un centrocampista che non sarà troppo amico del gol, ma dovrà tornare utile per verticalizzare e creare superiorità numerica alla squadra di Novelli. Il Campobasso vuole battere i cesenati del Romagna Centro per sbloccare lo zero sia nella casella dei punti che in quella dei gol fatti. Nota positiva dell'allenamento di ieri è stata la presenza di Perrella, il quale stringendo i denti potrebbe anche farcela ad essere impiegato. Corbo è guarito completamente dall'infortunio di inizio stagione che lo ha tenuto lontano dai campi nelle prime due uscite. Nella sgambatura del giovedì ha fatto vedere cose discrete il trequartista Germano Filo, proveniente dal notaresco promozione abruzzese. Si aspetta una mano abbastanza pesante nel reparto offensivo, laddove sembra che la società possa intervenire anche con più di un innesto. Dai numeri della prima di campionato a Selva Piana non ci si aspetta certamente un fulmine di guerra nella squadra del Romagna Centro, un vero e proprio satellite del Cesena Calcio. Molti ritengono che il Romagna giochi le proprie partite interne al Manuzzi di Cesena, cosa non vera. I romagnoli giocano a Martorano, che è una frazione di Cesena, senza grandi obiettivi di classifica. Il Romagna scenderà in Molise per uscire indenne da Selva Piana, in comune con il Campobasso, a il non aver realizzato alla prima di campionato, solo che i romagnoli un punticino sono comunque riusciti a strapparlo all'Olimpia agnonese. Novelli ha svolto intense sedute tattiche nel corso della settimana. Il tecnico rosso-blu ha chiesto soluzioni alternative alla propria squadra in caso di necessità, come il lancio lungo in determinati frangenti della partita, se non si dovesse riuscire a scavalcare la difesa avversaria. Domenica sarà lecito aspettarsi anche una prestazione diversa rispetto a quella dell'esordio. In realtà sarà difficile immaginarsi un Campobasso peggiore di quello del secondo tempo di Pineto. A proposito di impiantistica del Girone F, diremo che lo stadio del Duca di Ascoli è tornato disponibile dopo alcuni lavori precauzionali effettuati a seguito del terribile sisma di qualche settimana fa che ha colpito proprio il centro Italia. Ascoli-Spall si gioca al Del Duca. Anomalia, Monticelli-Alfonsini invece si gioca domenica prossima non al Del Duca, bensì allo stadio di Teramo. Ieri cerimonia di premiazione per gli atleti e i tecnici della Fighting Club Boiano, reduci dai mondiali di Dublino di kickboxing specialità Light Contact, dove hanno conquistato un oro e un bronzo. Il consigliere regionale delegato allo sport, Parpiglia, li ha premiati. Grande risultato per la Fighting Ring Boiano. Tre atleti della società boianese sono stati impegnati con la nazionale italiana a Dublino, dove si sono disputati i campionati del mondo uaco di kickboxing. Medaglia d'oro e quindi titolo mondiale per Mattia Matuzio nella categoria 69 kg Juniors di Light Contact. L'atleta della Fighting Ring Boiano ha battuto nella finale l'inglese Thomas Hunter. E' stata molto sudata nei mesi di preparazione dopo che ho pinto il campionato italiano. Sono stati in terra a allenarci dai miei compagni. In finale ho un altro inglese che ha battuto il mio compagno Alex. L'ha dato tutto di me e lo sono riuscito a battere alla terza ripresa, perché stavamo pari nelle prime due riprese. L'anno prossimo passeremo ai senior, quindi ci sono altri traguardi da conquistare, perché il campionato italiano in senior è il campione del mondo. Quindi diventa piuttosto già dei campionati italiani in senior. Quindi tutti nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere, è sempre un orgoglio. Nella bacheca della società molisanea si aggiunge anche la medaglia di bronzo di Andrea Albanese, impegnata nella 60 kg juniores femminile di Light Contact. Un risultato importante per la giovane atleta molisana, la prima esperienza ha già una medaglia. Eliminazione agli ottavi per Alex Carbone nella categoria 69 kg juniores di Light Contact. Ma intanto il delegato allo sport della regione Molise, Carmelo Parpiglia, ieri ha voluto premiare gli atleti e tutta la società per aver portato il Molise alla ribalta mondiale. Io ritengo che bisogna evidenziare questo straordinario risultato che alcuni ragazzi della nostra regione hanno ottenuto. È stato un gioco di squadra, gli allenatori, Carbone ed Andrea insieme a questi ragazzi sono riusciti ad ottenere veramente un risultato di eccellenza. Noi come regione dobbiamo valorizzare questi talenti, queste eccellenze della nostra regione. Quindi un applauso a Carbone che ha raggiunto il grido più alto del podio, ma anche Andrea che è una ragazza ancora giovanissima è riuscita ad arrivare al terzo posto. Ma anche il figlio del mister Carbone è riuscito a ottenere comunque dei risultati ottimi. Quindi è un gioco di squadra. Lo sport quando si gioca insieme si riesce a ottenere dei risultati. E quindi ritengo che noi come regione per tutte queste declinazioni positive bisogna appunto sottolineare e dimostrare che nella nostra regione lo sport si può fare e si possono ottenere importanti risultati. Domani il Pala Unimo lo ospiterà due eventi alle 15.30 in campo per un test amichevole Cus Molise e Benafro. Le due formazioni di calcio a 5 di cadetteria a seguire spazio al mini basket con l'open day al Cus alle 18.00 in programma l'incontro dello staff della cestistica che da quest'anno curerà il settore giovanile. Sempre per il futsal di cadetteria. Questa sera alle 19.30 la palestra a Sturzo test amichevole tra la Chaminade e il Bonefro formazione di serie C1 regionale. Al palazzetto dello sport di Isernia la squadra di Scarpitti domani alle 16.00 ospita il Marigliano formazione di serie B. Ai nostri microfoni Bidinotti tra i riconfermati della squadra bianco celeste. Siamo con Orlando Bidinotti laterale dell'Isernia Colcio 5 una nuova stagione ai nastri di partenza ecco un tuo aspetto personale per quanto riguarda te quanto è stato importante la tua riconferma con questa squadra? Per me è importante perché il gruppo praticamente è cambiato poco quindi trovare il stesso gruppo, i stessi compagnia aiuta e tanto. Poi i ragazzi che sono arrivati sono tutti ragazzi validi quindi penso che quello sarà un gioco da ragazzi veramente da ritrovarsi insieme, da fare un bel gruppo e credo che quest'anno ci sarà veramente da divertirsi. Ecco se conosci un po' il girone che campionato ti aspetti? Quali squadre magari vedi blasonate? Il girone di quest'anno sarà quello pugliese quindi è un girone ostico perché ci sono sempre squadre difficili e poi giocare in Puglia è sempre dura quindi noi ci aspettiamo un girone veramente tosto, un girone veramente difficile però ci stiamo preparando altrettanto noi per affrontarlo al massimo delle nostre possibilità. Ecco un giocatore come te che di gol ne ha sempre fatti vorrei comunque continuare a segnare anche quest'anno? Sì, fare gol è sempre importante, è sempre bello festeggiare tutto però il più importante è vincere infatti noi stiamo lavorando come gruppo pensando sempre che quando si vince si vince sempre il gruppo quindi siamo veramente focati su quello. Scendiamo nel campionato di serie C1 regionale, il Santa Croce del Sannio da diverse stagioni e tra le protagoniste sugli obiettivi stagionali il tecnico. Marco De Michele per il secondo anno consecutivo alleni il Santa Croce del Sannio, formazione del campionato di serie C1 di Futsal. Per quanto riguarda il campionato di serie C1 si preannuncia sicuramente interessante con tante squadre che si sono allestite insieme a voi per puntare alle zone alte della classifica. Sì, credo che ci sono 4-5 squadre che sicuramente possono puntare al vertice, credo che il Boiano in un'ipotetica griglia di partenza sta sicuramente un posto avanti agli altri perché ha confermato una rosa già valida dell'anno scorso e in più ha integrato con altri 3-4 elementi di spessore. Sì, oltre al Boiano ci sono altre squadre che comunque sono anni che disputano questo campionato come il Bonefro, la Saracena e sicuramente anche noi cercheremo di giocare per stare a stretto contatto con le prime. Conosci molto bene il campionato di serie C1, conosci molto bene anche vincere il campionato, l'hai fatto tra l'altro proprio con la Chaminade che quest'anno si appresta a disputare tra l'altro il campionato di serie B portando avanti sempre la solita politica dei giovani. Sì, io sono contento di aver vinto il campionato con questa società ormai nel 2008 e sono ancora più contento che la Chaminade in questi anni ha comunque continuato, anche forse potenziato sia all'organico a livello soprattutto giovanile e i risultati poi di questa programmazione sono sotto gli occhi di tutti e a maggior ragione sono ancora più contento che ovviamente il timone della squadra e nelle mani di Paolo Pistuto che notoriamente è il mio cognato per cui sono ancora più contento di questi. Possiamo dire che però diciamo così la politica anche del Santa Croce comunque è la stessa della Chaminade. Puntare sui ragazzi del posto perché sono loro la forza della squadra. Sì, noi abbiamo 3 o 4 elementi di ragazzi di spessore. Ovviamente il bacino d'utenza di Santa Croce è abbastanza ridotto però nel comprendorio può attingere da paesi come Ponte Landolfo, Morcone dove ci sono comunque degli ottimi elementi, noi cerchiamo di porci anche come attrattiva per il calcio a 5 come proprio nella zona del basso Beneventano e siamo pronti comunque ad accogliere ragazzi anche di altri paesi come già è successo l'anno scorso e sta succedendo quest'anno perché nella Rosa abbiamo ragazzi di paesi limitrofi, Circello, Morcone, Ponte Landolfo. Muntan Bike domenica 18 in programma la terza XC Montevairano organizzata dalla Molise Tour Bike. Le iscrizioni per prendere parte all'evento sono ancora aperte fino alla mattina della gara. Ciclismo domenica Isenia si svolgerà il quinto Memorial 10 settembre. Da quest'anno Memorial dottor Vincenzo Macchia. La gara sarà valida come terza prova del campionato regionale XAIN. Il circuito è di 58 chilometri, la partenza è fissata alle 9.30 in piazza Andrea di Isenia. Calcio regionale al via questo fine settimana. I tornei di eccellenza e promozione sono sei gli anticipi in programma domani. Ci siamo domani al via i campionati di eccellenza e promozione con gli anticipi della prima giornata di campionato. In campo alle 15 orario federale che cambierà a partire dall'ultima domenica di ottobre. Per il massimo campionato regionale ben 4 gli anticipi previsti. La nuova avventura del città di Termoli parte dallo spinale di Alife. Partita subito dura per l'11 di Mister Precali che dovrà vedersela con una delle sorprese della scorsa stagione. Il team campano ha puntato su diversi ragazzi del posto più qualche elemento d'esperienza. Il terreno di gioco di Alife è sicuramente difficile da violare. I giallorossi al contrario hanno tutte le intenzioni di partire con il piede giusto. Rientro a casa è proprio il caso di dirlo per il Treppini Sporting Matese. Il nuovo impianto, collaudato e inaugurato in estate, è pronto per la prima di campionato. A Piedimonte arriva l'Olimpia Riccia che proprio in questi giorni ha ingaggiato il forte attaccante ex cerce maggiore Omar Silla e l'esterno offensivo formisano ex boiano. Grande attesa del pubblico di fede e bianco verde pronto a riabbracciare la squadra dopo un anno di esilio a Capriate e a Volturno. Big match a Sesto Campano dove i locali ricevono il quotatissimo Macchia di Sarnia. Storicamente difficile espugnare il campo degli uomini di Mister Cecchino, una prova subito importante per Panico e compagni chiamati a disputare un torneo di altissima classifica. Sicuramente il nuovo Macchia di De Bellis ha nelle corde il colpaccio di giornata. Sesto Campano che dal canto suo è in serbo delle sorprese di mercato. Il presidente Silvestri è al lavoro per rafforzare la squadra. Infine Campobasso 19-19 e Gambatesa si sfidano all'antistadio Selvapiana. Obiettivo salvezza per entrambe i bianco verdi da monitorare le condizioni degli attaccanti di Virgilio e vinci guerra alle prese con noie muscolari. Non solo eccellenze, in promozione due match, entrambi di un certo interesse. Esordio casalingo per Domenico Martinelli sulla panchina del Boys Yelsey Metal Zilembo. Avvio non di certo agevole, Roseto, avversario di turno, rappresenta sicuramente una delle certezze della Bimolisana. Squadra sicuramente più temibile in casa, in terra pugliese, che non a domicilio. A Baranello in scena Cerce Maggiore e San Martino. Il Cerce Maggiore, che ricordiamo giocherà tutte le gare interne a Baranello, è ancora in fase di costruzione. Al contrario il San Martino, partito con grande anticipo sulla tabella di marcia, è già pronto per affrontare al meglio la nuova stagione. Il Termoli aprirà la stagione domenica, ospite della Liffe. Intanto ieri presso il Comune di Termoli si è svolta la presentazione a stampe e tifosi della Società, dello staff tecnico e della Rosa. Grande entusiasmo per il nuovo sodalizio che ha permesso alla cittadina adriatica di avere ancora una squadra di calcio nel campionato d'eccellenza. Tra le squadre che aprono domani la stagione, il Gamba Tesa, e abbiamo parlato con Tosches. Giuseppe Tosches, mi sembra che c'è molta concorrenza in attacco anche quest'anno per te. Sì, 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 c'è una bella e sana concorrenza. Siamo in tanti, però il mister sono sicuro che userà tutti. E quindi siamo tranquilli, lavoriamo bene, ci aiutiamo. Quindi vogliamo solo mettere in difficoltà il mister per le scelte domenicali. Ultima considerazione, che il campionato ti aspetti non solo da parte della tua squadra, perché chiaramente gli obiettivi penso siano sempre quelli, sono sempre immutati per voi. Però mi sembra che quest'anno magari il livello sia abbastanza alto. Sì, sì, il livello è abbastanza alto. Noi abbiamo il nostro obiettivo principale che è quello della salvezza, come tutti gli anni. Speriamo di raggiungerla quanto prima, di poterci divertire e far divertire chi viene a seguire la nostra squadra. Speriamo bene. Gara impegnativa per il Sesto Campano. Domani arriva il Macchia. Marco Rossi, attaccante del Sesto Campano, già si fa sul serie con la prima di campionato. Cosa vi aspettate da questa stagione di eccellenza? Voi che siete una squadra che è abituata ai primi cinque posti. Sì, diciamo che il calendario, vedendolo, non è molto favorevole nelle prime giornate. Però questo può essere anche un motivo per spronarci, per dare qualcosa in più. Noi domenica, già la prima giornata, affrontiamo in casa il Macchia, che è una delle squadre, come dicono, favorite per la vittoria finale. Sicuramente è un motivo per dare qualcosa in più. Noi ce la metteremo tutta. Vogliamo comunque combattere su ogni pallone e comunque in casa ci faremo rispettare, così come faremo con tutti, dalla prima della classifica all'ultima. Quindi noi ci auguriamo di portare a casa i tre punti, perché noi comunque alla fine giochiamo per vincere con tutti. Poi, alla fine, se gli avversari sono più bravi di noi, pazienza, insomma. Facciamo i complimenti. Match casalingo per la Cliternina. Domenica al Madonna Grande, in campo contro il Venafro. La Fratta sugli obiettivi stagionali. Michele La Fratta, Coppa Italia, ma serve di preparazione sicuramente per il campionato. Buona Cliternina per oltre un'ora, poi l'espulsione di Vito vi ha tagliato le gambe, però alla fine serviva come preparazione nel campionato. Sì, siamo una squadra giovane, purtroppo quello è stato un errore un po' ingenuo che ci ha condizionato, però comunque i ragazzi hanno combattuto, ci hanno creduto fino alla fine, quindi è stata una buona prestazione generale. Credo che questa partita invece ci ha aiutato molto, la sconfitta, per farci rimanere umili, per farci impegnare tutti i giorni nell'allenamento e penso che se continuiamo su questa strada possiamo toglierci tante soddisfazioni. Siete tanti ragazzi. Sì, siamo un gruppo giovane, all'inizio era un po' titubante, però con il lavoro del mister e con l'aiuto di tutti riusciamo a costruire un gran gruppo e quindi anche a fare bene col gioco la domenica. La salvezza è l'obiettivo vostro, sicuro? Sì, sicuramente rimaniamo umili, vediamo che succede già domenica, è cambiata un'altra cosa rispetto alla Coppa Italia e quindi speriamo di toglierci queste soddisfazioni. La matricola a Campo di Pietra apre la stagione a Vasto Girardi. Il commento del tecnico. Lorenzo Viglione, tecnico del Campo di Pietra, conoscendoti magari uno vorrebbe avere più tempo disponibile per preparare il campionato perché siamo praticamente arrivati, perché mancano pochi giorni all'esordio, però devo dire che almeno penso nel primo mese, sei d'accordo, l'importante è trovare bene il campo per poi naturalmente crescere in un secondo momento ma è un percorso che è previsto dopo appena un mese di lavoro. Assolutamente, l'obiettivo che abbiamo ovviamente è quello della salvezza. L'anno scorso l'obiettivo era diverso in un campionato di promozione quindi dovevo essere tra virgolette anche bravo a mantenere la concentrazione partita per partita anche con un avversario sulla carta più inferiore a noi. Quest'anno saranno tutte delle battaglie, saranno tutte delle partite molto difficili dalla prima all'ultima giornata, quindi non possiamo permetterci cali di concentrazione come è successo sabato scorso e questa è la giusta strada a prescindere da quello che sarà il risultato a Vasto Girardi le partite con le quali dovremmo fare dei punti sono alte però noi ce le andiamo ovviamente a giocare perché la rosa lo permette a livello sia qualitativo che quantitativo quindi è importante anche già aver passato il turno di Coppa in modo tale che poi andremo a fare l'ultima del girone a Piedimonte e poi andremo a fare gli ottavi. Nel campionato di promozione il Real San Martino ha scelto di puntare sui giovani. Mario Di Bello, classe 2000, futuro da vendere perché ovviamente hai proprio il futuro davanti a te sei pronto per questa nuova stagione, hai giocato titolare al campo basso, il gamba tesa la vittoria contro il 19-19, insomma per un ragazzo che vuol crescere lo sta facendo con tanta voglia. Sì, questa è una bella esperienza perché comunque mi aiuterà sicuramente a crescere per affrontare poi il resto di quello che mi aspetta. Sono il mister fiducioso in noi ragazzi e questo fa piacere, ti dà voglia di continuare a fare questo e anche migliorarti e quindi è un nuovo stimolo perché tu comunque abbandoni il settore giovanile e ti butti in un mondo dove tutto è diverso, cioè più grinda e questo per noi ragazzi è uno stimolo in più perché ti senti un po' inferiore, allora dentro ti sale un'emozione che ti spinge a fare meglio. Senti, tu hai già vinto la tua prima partita che era quella più difficile, cioè battere proprio l'emozione contro il campo basso hai giocato spavaldo tranquillamente contro giocatori molto più grandi e soprattutto di provata esperienza. Sì, forse dopo quella partita ho iniziato a prendere un po' confidenza e adesso sono pronto, cioè pronto non so, però cercherò di dare il meglio. Senti, l'allenatore ha creduto subito in te e questa è la conferma che il calcio viene guardato anche sotto un'altra ottica, quella di lanciare i giovani. Sì, questo a me può fare solo che piacere, ma comunque non mollo, continuo a dare tutto per dare conferma al mister e cercare in minimo di aiutare la squadra. Ma tu sai che c'è tanti tifosi sugli spalti, non solo mamma e papà, i tuoi parenti, ma anche i ragazzi, quelli più piccoli di te, una continuazione ti acclamano sugli spalti. Sì, mi fa piacere. Adesso questo Ria San Martino che dice è pronto per il campionato di promozione. Sì, penso che abbiamo dato la dimostrazione in queste due partite contro due squadre di eccellenza. La prima, il risultato non è in favore, però comunque abbiamo dato una bella prestazione, soprattutto secondo tempo. Penso che abbiamo fatto una buona gara. Senti, domenica, anzi no sabato, voi anticipate a sabato, c'è un'altra emozione da battere, quella dell'esordio ufficiale in campionato. Aspettiamo questo giorno, ci alleniamo in settimana e vedremo, speriamo bene. Atletica è in programma domenica 18 settembre, ma verrà presentata in conferenza stampa giovedì prossimo alle 11, presso la Sala Raucci del Comune di Sernia, l'undicesima edizione della Corri Sernia, sedicesimo Memorial Maurizio Di Placido, organizzata dalla NAI. E' stata inaugurata nei giorni scorsi nella zona industriale di Sernia, MySuite Spa, un centro benessere sportivo. All'inaugurazione della MySuite Spa, anche la frequenza di Radio Ibiza, sono qui con Gian Piero. Ciao, ciao da Gian Piero, ciao un bacio. E con Timo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, come sta procedendo questo evento? Tanta gente? Beh, intanto sì, tantissima gente, c'è Radio Ibiza, tra l'altro non mi aspettavo questo grande palazzo del benessere in un oasi molto bello, diciamo, in un oasi del deserto, diciamo. Effettivamente sì, è proprio così, un oasi nel deserto. Avete avuto modo di constatare, di osservare? Assolutamente sì, infatti ho con me le due brochure di presentazione della struttura, sia per quanto riguarda il fitness che per quanto riguarda la spa. Sia per il fitness che per la spa, la struttura è praticamente perfetta e ricopre i ruoli al 100%, non manca praticamente nulla. Quindi gli amici che magari ci seguono da queste zone, io personalmente ve lo consiglio, proprio per trascorrere magari un inverno in modo diverso e mettersi in forma per l'estate. Grazie ragazzi e buon proseguimento. Lo consiglio anche a voi, tra un po' in diretta su Radio Ibiza. Ciao, grazie. Atletica, domenica in programma, il primo trofeo potistico percorrendo San Giuliano, gara aperta a tutti, organizzata dalla SD Atletico San Giuliano del Sannio. Oggi alle 20 scadono le iscrizioni, mentre domenica a partire dalle 15 lo start alla gara, che prevede un circuito di 8,5 km. Ed ora il cartellino rosso. E va, e va, va avanti tu che adesso c'ho da far, sarai la mia metà ma si non parti, diventi un'antropolla mia tre quarti. E va, e va, e va, non puoi sapere piacere che me fa, magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce l'anno sola, io te ce l'anno sola, solo senza te me. Vi ricordiamo che per segnalarci altre situazioni simili potete contattare la redazione sportiva tramite mail all'indirizzo sportichiocciolatelemolise.com o inviando un messaggio sulla pagina Facebook di Domenica Sport. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.